Ehi, dietro. Cosa c'è? Di che colore è il cielo? Blu. Sai che anche il concerto. Sì, figurati c'è il concerto blu. Certo. Dove? A Trato. Quando? Il 2 aprile. Il 2 aprile? Al teatro Metastasio. Ma davvero? Ma chi si esibisce? Il pianista Trosseda. Poi? Il cantante Nardis. Poi? Il mio amico, il pianista Rodò Teotronico. E poi io. Il pupazzo Sergio. Scusa, e io cosa faccio? Tu, dietro Ghislandi, sai lo spettatore. Ok. Spettatore, 2 di aprile? Prato? Teatro Metastasio? Blu concerto. No, concerto blu. Ciao. Arrivederci.